E' stato ritrovato qui in questo sottoscala un quarantenne di origini straniere ormai senza vita, un senza tetto che spesso trovava rifugio appunto in questo giaciglio. Ci sono anche segni proprio di consumo di cibi e bevande. A ritrovare l'uomo senza vita è stato un condomino. Al centro, dove stava? A questo posto. Non lo stava qua, qua. Proprio davanti al passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 e i sanitari hanno potuto soltanto constatare la morte del quarantenne. Sarebbe di origini indiane, morto per ipotermia nella prima notte di freddo in provincia di Arezzo. Qui a Montevarchi il termometro stanotte è sceso di 4 gradi sotto lo zero. A quanto ci raccontano, il senza tetto aveva trovato rifugio altre volte in questo sottoscala che si trova in via Burzagli, una zona centralissima e vicina alla stazione di Montevarchi. Ma questa rocassa non è stata ieri qua, ma però lui è abituato a venire qua, conosce la zona. Dormiva, si ubriacava e basta, però non davano a nessuno. Non parlava con nessuno? No, 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 no. Che c'era da parlare? Qua si passa, si va a prendere la macchina. Secondo me se Starace stamattina non lo trovava a quella persona, nessuno si metteva in mezzo a chiamare a qualcuno. Perché poi documenti alla polizia, documenti ai carabinieri, a me non mi interessa, non ce li ho da nascondere. Però, vedi, camminano e vanno a casa. Ora siamo arrivati, secondo me, a toccare proprio il fondo. Si è perso anche l'umanità. Si è perso tutti i principi più importanti, più sani che prima c'erano. Ora non c'è più nulla. Ognuno pensa per sé, ognuno pensa per sé. C'è un parroco, Don Mauro Fresi, che non si dà pace per questa morte. Lui nella sua chiesa stanotte ne ha accolte 38 di persone senza fissa dimora. Lei ha mai dormito fuori? Io ho già fatto dormito fuori, dormito fino al 2009, penso, prima di fare i documenti. Dormiva per strada? Si, dormito per strada. La gente quando la vedeva per strada che faceva? Non ci preoccupa, non ci guarda nemmeno.